Spartaco, il gladiatore che sfidò Roma. Spartaco è una delle figure più iconiche della storia romana. Gladiatore di origine traccia, capeggiò una rivolta di schiavi che mise in seria difficoltà l'impero romano. La sua storia è stata raccontata in opere letterarie, cinematografiche e televisive, e continua ad affascinare e ispirare le persone di tutto il mondo. Le origini. Spartaco nacque in traccia, una regione situata nell'attuale Bulgaria, intorno al 109 anno corrente. Era figlio di un nobile treis e da giovane si arruolò nell'esercito romano. Combatte in Macedonia, dove fu catturato e venduto come schiavo la fuga. Nel 73 anno corrente, Spartaco era uno dei gladiatori che combatteva nella scuola di gladiatori di Capua. Un giorno, insieme ad altri 69 gladiatori, riuscì a fuggire dalla scuola e a rifugiarsi sul Monte Vesuvio. La rivolta. I gladiatori di Spartaco iniziarono a raccogliere altri schiavi, e presto il loro esercito raggiunse i 70.000 uomini. Spartaco era un comandante abile e carismatico, e riuscì a guidare i suoi uomini in una serie di vittorie contro l'esercito romano. La guerra. La rivolta di Spartaco durò due anni. Gli schiavi riuscirono a sconfiggere l'eserc puntuito romano in diverse battaglie, e arrivarono a minacciare direttamente Roma. Tuttavia, alla fine, le forze romane riuscirono a sconfiggere gli schiavi nella battaglia di Cheronea, in Grecia. La morte. Spartaco fu catturato e ucciso, e la sua testa fu portata a Roma come trofeo. Tuttavia, la sua rivolta aveva avuto un profondo impatto sull'impero romano. Aveva dimostrato che anche gli schiavi potevano essere capaci di una grande resistenza, e aveva contribuito a migliorare le condizioni di vita degli schiavi in Italia. L'eredità di Spartaco. La storia di Spartaco è un simbolo di libertà e resistenza. È una storia che continua ad essere raccontata e rievocata, e che ispira le persone di tutto il mondo a lottare per i propri diritti. La figura storica. Le fonti antiche sulla figura di Spartaco sono scarse e spesso contraddittorie. La principale fonte è il racconto di Appiano. Uno storico greco che visse nel secondo secolo dice Appiano descrive Spartaco come un uomo forte e coraggioso, un leader carismatico e un abile stratega. Alcuni storici moderni hanno messo in dubbio la veridicità di alcuni dettagli della storia di Spartaco, come la sua origine e traccia o il fatto che fosse un ex soldato romano. Tuttavia, la maggior parte degli storici concorda sul fatto che Spartaco sia stato una figura reale che ha guidato una rivolta di schiavi contro Roma. L'impatto culturale. La storia di Spartaco ha avuto un profondo impatto sulla cultura occidentale. È stata raccontata in opere letterarie, cinematografiche e televisive, e continua ad affascinare e ispirare le persone di tutto il mondo. Alcune delle opere più famose che raccontano la storia di Spartaco sono, asterisco il romanzo Spartaco, di Howard Fast, pubblicato nel 1951. Film Spartaco di Stanley Kubrick, uscito nel 1960. La serie televisiva Spartaco di Starz, andata in onda dal 2010 al 2013. La figura di Spartaco è stata anche utilizzata in diversi contesti politici e sociali. Ad esempio, è stata usata come simbolo della lotta per i diritti civili degli afroamericani negli Stati Uniti.